Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Team Fortress 2 E lasciami parlare, tu non esisti, non ci sei in questo video, vai a quel paese, ti investo con la macchina Comunque ragazzi, oggi che cosa faremo? Come sempre, cioè nel senso abbiamo fatto soltanto un episodio, questo è il secondo Andremo a trollare i bambini, che qua non ci sono perché vabbè, andremo a importunare delle persone mature Su questo gioco che ha 11 cazzo di anni Bravo, bravo Quello che farà incazzare le persone sarà BZ, tra un pochino capirete perché Ah, che tazzo, you kill me, you kill me, you kill me, you're a malafogo man, malafogo Oddio, già no, no, c'è un po' di sconnesso, non ci credo Allora ragazzi, prima disconnessione del giorno, ci hanno chiccato per la prima volta Comunque ragazzi, sì, cioè il mio scopo di questo video è farsi cacciare dei server Più volte ci faremo cacciare dei server in questo video Più volte riusciremo a farci cacciare dei server Più punti fa... no, non ci sono punti Vedrete voi che noi siamo molto divertenti, quindi ci facciamo cacciare dei server Grazie a te le Sì, be quiet Sì, be quiet CHEATAAAAAAA Can you stop, please, I'm begging you I'M GOING TO STOP WOOOOOOH CHEATAS 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 CHEATAAAAAAA Can you please stop I'm begging you, sir Do you need a sick ass Do you need a Mentos Anything, dude Shut the fuck up Mentos in your ass CHEATAS 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 I'M A CHEATAS CHEATAS nın Ch vuele là ci sta invidando CHEATASS CHEATAS 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 C'ho già kickato! Ok ragazzi, man vs machine in modalità allenamento perché sennò serve un pass da 90 centesimi che è... TAGA! E quindi dai andiamo! Hello madafucka, I... My name is Ditch2121 ROTZAKROY TEPLONITRATI compagnie Go to the Fuckland! Go to, Go to the Fuckland! CTRLURD Plusículos ech Internet Muito hubpare места, FBI narcolici contenitors, CONSTITUTOS! Vodka, 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 Vodka Gelas Cheaters are blue. Cheaters are blue. Cheaters are blue. He management is legit. Cheaters are blue. Cheaters are blue. Perfetto, siamo entrando nella partita con Distro 1,2,1 da giocatore, io da urlatore professionista E devo dire che stiamo facendo schifo Hi, 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 I have 11 years but I'm intelligent Are you in? Are you in? You are in, you are a la la faca, you mother as a faca, you mother as a vaca Ok ragazzi, con questo ci salutiamo e con questo un saluto da Distro 1,2,1 e una persona che non esiste Io esisto eh, amico, sono qua, fianco a te Ok, come cazzo ti chiami? LXXXXX E con questo, ciao a tutti! Sì! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti